Buonasera dal telegiornale di Imperia TV. La Riviera Trasporti d'Imperia ha approvato il bilancio 2018 con un lieve margine di utile. Per il Presidente Riccardo Giordano si tratta comunque del segnale della società di non produrre più perdite e di voler guardare avanti. Giordano non nasconde i problemi che affliggono comunque l'impresa pubblica di trasporto locale. Vediamo. L'Assemblea dei Soci della Riviera Trasporti, formata da rappresentanti di provincia e comuni di Sanremo e Ventimiglia, ha approvato il bilancio del 2018 che si è chiuso con un utile al netto delle tasse di 7.903 euro. Il Presidente di RT Riccardo Giordano ha evidenziato come risultato dimostra che la società è stata riportata in equilibrio e non produca più perdite, anche se costretta a pagare un pesante indebitamento ereditato dal passato. Giordano ha anche ammesso le carenze di autisti e controllori e le non ottimali condizioni dei veicoli che rappresentano di fatto il parco mezzi più vecchio della Liguria. Riccardo Giordano ha sottolineato come il via libera del Consiglio Comunale di Sanremo alla variante del deposito di zona San Martino consentirà di recuperare importanti risorse attraverso la vendita della struttura e potrà contribuire al miglioramento della situazione economica che a sua volta permetterà nuovamente di investire in professionalità e mezzi nuovi. Sempre in merito alla Riviera Trasporti di Imperia c'è da registrare anche un intervento del sindacato USB i cui rappresentanti hanno incontrato il Presidente della Provincia Domenico Abbo. USB chiede un cambio di rotta sul trattamento del personale e sulle dotazioni dei bus, i particolari in un servizio. In merito alla complessa situazione della Riviera Trasporti di Imperia, il sindacato USB ha incontrato il Presidente della Provincia Domenico Abbo per presentare una serie di richieste. Sulla vendita dei depositi di Sanremo e Ventimiglia, al cui Itar si avvia la conclusione, USB vuole sapere quali saranno le priorità dell'azienda sull'utilizzo dei proventi dell'operazione e Abbo ha evidenziato che il primo fine dell'operazione è la riduzione dell'indibitamento e degli interessi passivi che RT è costretta a pagare. USB ha poi posto l'accento sulla situazione dei mezzi di trasporto che genera anche la mentire da parte degli utenti con condizioni di stress dei lavoratori e motivo anche di contrasti interni all'azienda a seguito della scelta di RT di chiedere i danni ai dipendenti con procedure che per il sindacato sono a dir poco discutibili. USB ha chiesto quindi al Presidente Abbo di intervenire per risolvere tali problemi chiedendo anche che venga presentato un piano dettagliato di interventi immediati di manutenzione dei mezzi e che venga immediatamente interrotta l'azione nei confronti dei lavoratori per il recupero dei danni. Cambio della guardia ai vertici di Confindustria Imperia. Alberto Alberti oggi ha infatti passato il testimone a Barbara Merio. L'imprenditrice del settore nautico è la prima donna a ricoprire la prestigiosa carica a livello provinciale. Vediamo. Alberto Alberti cede alla Presidenza di Confindustria. Barbara Merio, imprenditrice del settore della cantieristica navale e già esponente di spicco di ucina al settore nautico dell'Unione degli Industriali. Il passaggio di consegne è in programma oggi a seguito dell'Assemblea degli Industriali. Alberti chiude il suo secondo mandato alla guida di Confindustria dopo quattro anni lasciando un'associazione economicamente sana e consolidata sul territorio, pronta anche a sviluppare progetti importanti, a cominciare dalla creazione di un polo tecnologico a Imperia. A differenza di quanto ipotizzato in occasione della presentazione del progetto dell'ex ferriere, il polo troverà sede nell'ex caserma dei Vigili del Fuoco di proprietà della provincia. Stando a quanto si è appreso finora, il momento della firma per l'acquisto dell'immobile sarebbe ormai prossimo e ci sarebbero anche già diverse aziende pronte a collocarsi nel nuovo polo imperiese. Restando sul tema dell'attività di Confindustria, a margine dell'Assemblea di oggi, si è appresa un'importante notizia relativa all'ex caserma dei Vigili del Fuoco di Imperia. La struttura infatti sarà acquistata da Confindustria per essere trasformata in un polo tecnologico, in particolare in un servizio. L'ex caserma dei Vigili del Fuoco di Imperia sarà acquistata da Confindustria dalla provincia che ne è proprietaria e trasformata in un polo tecnologico per accogliere aziende che operano a livello internazionale nel settore dell'informatica. La notizia è emersa oggi a margine dell'Assemblea di Confindustria. A confermarla è stato il presidente uscente Alberto Alberti, che in questo modo corona uno dei suoi sogni espressi fin dall'inizio del suo mandato, quattro anni fa. Alberti ha evidenziato che sono già diverse le aziende che da tempo aspettano Imperia e di potersi collocare in un'unica struttura per operare in un campo che offre grandi opportunità e non ha problemi di concorrenza fra coloro che vi operano in settori diversi. La vendita della struttura a rischio di degrado verrà formalizzata nei prossimi giorni con gli atti necessari e consentirà anche alla provincia di incassare importanti risorse economiche che serviranno a dare respiro al bilancio dell'ente. Si parla infatti di una cifra per l'accessione dell'immobile che si aggira attorno al milione di euro. Ovviamente prima dell'abbio del nuovo polo tecnologico sarà necessario un importante intervento di ristrutturazione e adeguamento degli stabili che compongono l'ex caserma di Via del Becchi. Il deputato ligure della Lega Flavio Di Muro ha interrogato sul trattato di Caen il ministro degli affari europei Vincenzo Amendola nell'ambito del comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen. La preoccupazione di Di Muro è che possa essere ratificato il trattato che cede alla Francia il tratto di mare al confine ventimigliese nel quale si pescano i gamberi di Sanremo. Sentiamo lo stesso Di Muro in collegamento telefonico. Onorevole Di Muro, ancora un intervento da parte del trattato di Caen che significa cedere un tratto di mare, soprattutto in Liguria dedito alla pesca del gambero che è molto importante. Con lei continua a contestare questo ma c'è il reale pericolo che accada che venga ratificato il trattato? Il precedente governo, composto da Lega e 5 Stelle, non ci sarebbe stata la ratifica in Parlamento che poi è l'ultimo atto necessario per rendere efficace questo accordo tra Italia e Francia sottoscritto dall'allora all'epoca ministro degli esseri Gentiloni. Oggi invece purtroppo i dubbi che avevamo sollevato come Lega le preoccupazioni che avevo sollevato per il nostro territorio sono state confermate. Ho avuto l'occasione di parlare pubblicamente in sede di Comitato Bilaterale Schengen con il ministro agli affari europei a Mendola il quale, su mia precisa richiesta, ha confermato la disponibilità a rivedere il trattato e portarlo in votazione e approvazione. Quindi c'è una tutela per i nostri pescatori? Secondo lei è ancora possibile questa tutela o si rischia davvero di perdere un tratto di mare fondamentale? Ma intanto c'è la preoccupazione di questa accelerazione da parte del governo che si prende in mano questo trattato. Vediamo come verrà rivisto. Io ovviamente insieme anche al collega Viviani che aveva già sottoscritto un'interrogazione con me seguiremo passo per passo qualsiasi modifica di riga, colonna, punto, punte virgola sperando che non venga ratificato ma se dovesse arrivare in Parlamento faremo una battaglia affinché il tratto di mare chiamato posta del cimitero o comunque la zona tra Sanremo e Ventimiglia che utilizzano i nostri pescatori per pescare sia tutelata e a disposizione dei pescatori italiani. Maxi sequestro di profumi con griffe e fasulle nel porto di Genova. Ad operare congiuntamente sono stati ancora una volta Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane. Sentiamo i particolari in un servizio. Nel corso delle attività di controllo operate nell'ambito del porto di Genova i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e i finanzieri del secondo gruppo della Guardia di Finanza hanno sequestrato un'ingente quantità di profumi. La merce si trovava a bordo della porta container Conti Paris, battente bandiera liberiana in un container con documentazione doganale artefatta proveniente dagli Emirati Arabi e destinato a Panama. Dogane e Fiamme Gialle hanno sequestrato 15 tonnellate di confezioni di profumi con confezioni di note griffe internazionali, ma falsi. I successivi approfondimenti effettuati, anche avvalendosi delle perizie effettuate dalle società titolari dei marchi, hanno confermato la contraffazione. Il sequestro ha permesso di impedire l'introduzione nel mercato europeo di una grossa partita di profumi potenzialmente dannosi per la salute. L'illecito business avrebbe fruttato al sodalizio criminale un guadagno di oltre 1 milione e 300 mila euro. La Liguria è all'avanguardia nella prevenzione e nella lotta attiva agli incendi boschivi. È quanto emerso dalla presentazione pubblica dei progetti trasfrontalieri MED del Programma Europeo di Cooperazione Interregionale Marittimo, di cui Regione Liguria e Anci Liguria sono partner, avvenuta oggi a Luano nel corso del primo della due giorni di meeting e comitati di pilotaggio. A fare il punto ai nostri microfoni è stato l'assessore regionale Stefano Mai. Siamo a Luano per i due giorni di comitato di pilotaggio del progetto MEDSTAR, un progetto che ha ottenuto un finanziamento europeo di 12 milioni di euro, che abbiamo scritto insieme alle regioni Toscana, Sardegna, Corsica e Regione del Sud, che è l'ex PACA. Un progetto che verte sulle strategie per combattere e contrastare gli incendi boschivi, un fenomeno sempre più importante a livello comunitario, ma direi anche mondiale. Assistiamo costantemente a episodi di incendi nel nostro territorio. Fortunatamente, grazie alla capacità operativa dei nostri volontari e dei vigili del fuoco, anche dopo la chiusura del Corpo Forestale dello Stato, che comunque ha previsto da parte della Regione Liguria una riorganizzazione dell'intero sistema, comunque noi siamo efficaci per contrastare in modo determinato questi incendi. Però abbiamo ragionato, specie dal 2017, l'anno Ribilis mai registrato in Regione Liguria, che forse sono necessarie strumentazioni diverse, attrezzature diverse, anche tecnologia nuova. Quindi insieme a queste regioni stiamo scrivendo 5 progetti a livello comunitario, quindi c'è una forma di cooperazione comunitaria per individuare migliori strategie, ma anche migliori mezzi e attrezzature. Nell'arco dei tre anni, fino a metà del 2022, noi metteremo in campo quindi azioni concrete, che potranno essere dei piani di previsione, piani di contrasto, anche dei interventi selviculturali per ridurre il rischio incendi di interfaccia, ma soprattutto attrezzature e mezzi speciali per l'anti incendio boschivo. Con l'avvio dell'anno scolastico riprende il servizio Pedibus. Il Comune di Sanremo ha infatti riconfermato la convenzione con l'associazione Adolfo Rava. Si tratta di un progetto organizzato dalla Polizia Municipale. Vediamo. Il Comune di Sanremo ha confermato il servizio Pedibus, ovvero andare a scuola a piedi. Si tratta dell'accordo con l'associazione Adolfo Rava per il 2019-2020, che si concluderà al termine dell'anno scolastico in corso. Si tratta di un progetto predisposto dal Comando della Polizia Municipale con il sostegno dell'Associazione degli Ufficiali di Gara Adolfo Rava. Un servizio concordato con le scuole primarie di Alessandro Volta, l'Istituto Italo Calvino e della Squashati di Sanremo Ponente. Il progetto di accompagnamento coordinato come una linea di autobus perché a una stazione di partenza alcune fermate è un capolinea, vale a dire la scuola. Quindi tutti puntuali all'orario di partenza dove si uniscono i piccoli studenti. Il servizio sarà avviato il mese prossimo ed avrà un costo di circa 10.000 euro. Il Pedibus è un progetto interdisciplinare perché coinvolge le scuole, il Comune che lo finanzia e che organizza anche tutta la logistica, dai volontari che accompagnano i bambini e poi l'aspetto fondamentale è quello anche della salute perché i bambini vanno a piedi e quindi camminano, si muovono, respirano all'aria aperta prima di andare a scuola. Il Pedibus, ricordiamo, è quel autobus umano formato da bambini che vanno appunto a scuola a piedi e da accompagnatori. Gli accompagnatori quest'anno sono i volontari dell'Associazione Adolfo Rava, gli ufficiari di gara dell'ACI. Il progetto è partito dall'inizio dell'anno scolastico e si conclude alla fine di maggio. I percorsi prevedono la partenza da Corso Cavallotti presso i giardini di Palazzo Comunale e una fermata intermedia in Rondo Garibaldi. Poi partenza anche dall'intersezione tra via San Francesco e via Zeffiro Massa e fermata intermedia in Rondo Volta. Ed ancora partenza da Piazza Eroi, Fontanna di Siro e Andrea Carli e fermate intermedie in via Palazzo e in Piazza Colombo. Inoltre è incluso un percorso per la scuola primaria Squashati. Dai giardini della Foce è fermata intermedia dal benzinaio e poi arrivo a scuola in via Panizzi. Andando a piedi per la strada, per la città, si riescono a vedere tutti quei particolari che certo andando in macchina o in autobus il bambino ha un atteggiamento più passivo e a volte è ancora mezzo addormentato. Invece col pedibus si ferma, si raduna, aspetta gli altri bambini, chiacchiera, cammina, guarda i segnali stradali, guarda l'albero, guarda il fiore. È tutto un altro modo di andare a scuola. Arrivano a scuola e gli insegnanti ce lo dicono che sono già pronti, recettivi. Mentre invece il bambino che va con un mezzo di trasporto come passeggero arriva che a volte è ancora un po' ciondolante. E ora a Riviere 20 poi la situazione in cantieri sull'autostrada dei Fiori. Questi cantieri lungo l'autostrada dei Fiori Savora 20 miglia, confine di Stato, in direzione Italia, carreggiata sud, tra confine di Stato e 20 miglia, chiusura della marcia del sorpasso per adeguamento Galleria del Monte dal 7 al 13 ottobre, tra Pietraligure e Finale Ligure chiusura della corsia di marcia di sorpasso per adeguamento Galleria Bracciale dal 7 al 13 ottobre, tra Finale Ligure e Spotorno chiusura della corsia di marcia per adeguamento Galleria Orco dal 7 al 13 ottobre, in direzione Francia, carreggiata nord, tra Savona e Spotorno chiusura della corsia di sorpasso per adeguamento Galleria Fornaci dal 7 al 13 ottobre, Tra il Benga e Andorra, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento galleria Valondarme dal 7 al 13 ottobre. Tra Andorra e San Bartolomeo, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento galleria Colledico dal 7 al 13 ottobre. Tra Imperia Ovest e Armaditaggia, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento delle gallerie Poggi e Barbarossa dal 7 al 13 ottobre. Grazie per averci seguito e buona serata! La crisi di governo che si è consumata tra agosto e inizio settembre, sommata alla fine delle vacanze e al ritorno a scuola e al lavoro, hanno fatto impennare lo stress degli italiani, portandolo ad un livello medio-alto. E quanto ha rilevato lo stressometro, l'indagine quantitativa dell'Istituto Piepoli, presentata a Roma in occasione della giornata nazionale della psicologia. Quali sono gli obiettivi che si vogliono raggiungere con lo stressometro? Cerchiamo di capire quanto gli elementi meno prevedibili del nostro anno, crisi economiche, crisi politiche o vittorie di Coppe dei Campioni o di Coppe del Mondo, incidono su quanto siamo stressati o non stressati nella nostra vita quotidiana. Facciamo una volta la settimana questa rilevazione e due volte l'anno invece spiegheremo con domande più approfondite le ragioni di questo stress. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di 250 studenti ammessi alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dopo essere stati esclusi al test dello scorso anno accademico 2018-2019. Alla base di questa decisione, il fatto che per l'anno accademico 2019-2020 il Ministero ha aumentato di 1.600 i posti disponibili. Per i giudici amministrativi, tale aumento non soltanto è indice di sottodimensionamento dei posti disponibili, ma sembra anche più aderente. E' prevedibile i fabbisogni sanitari futuri. Condotto per la prima volta in Italia un intervento di chirurgia da remoto con un robot su rete 5G. Matteo Trimarchi, otorino laringoiatra dell'IRCS ospedale San Raffaele e docente all'Università Abita Salute San Raffaele di Milano, ha effettuato l'intervento di microchirurgia laser transorale su un modello di laringe sintetica all'ospedale San Raffaele, operando direttamente dal Vodafone Village. A renderlo noto è Vodafone, che ha presentato a Milano nove progetti 5G nel settore sanità e benessere. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato il Segretario Generale della Nato, Jens Stoltenberg. Il legame transatlantico resta un pilastro essenziale della sicurezza europea e quindi italiana in particolare. In questi 70 anni una costante degli scenari di sicurezza è stata la centralità del Mediterraneo, che resta culla di opportunità ma, come sappiamo, anche focolaio di sfide. Vi è una ritrovata consapevolezza oggi di quanto la sicurezza collettiva passi dalle sponde del Mediterraneo. Questo, guardate, non vale solo per il contrasto al fenomeno terroristico, evoluto e non certo estinto, ma anche per la risposta alle minacce che provengono dall'instabilità, dalle migrazioni incontrollate, dai traffici illeciti e dagli stessi cambiamenti climatici. Un tribunale di Filadelfia ha imposto alla Johnson & Johnson il pagamento di una multa da 8 miliardi di dollari, dopo che il farmaco antipsicotico Rispedral ha causato ad un uomo una ginecomastia, ovvero un ingrossamento delle mammelle. Si tratta della sanzione più pesante imposta finora alla multinazionale farmaceutica, nonostante questa abbia affrontato oltre 13.000 azioni legali riguardanti il farmaco. Nelle cause, la società è accusata di essere consapevole dei rischi, ma di non averli mai comunicati adeguatamente a medici e pazienti. L'Ocse rilancia sulla WebTax, annunciando una proposta dedicata che verrà presentata durante il G20. Tale progetto mira ad assicurare che i grandi da serie di tizi gruppi multinazionali, incluse le società digitali, paghino le tasse dovunque abbiano significativi legami diretti con i consumatori e generino i loro profitti. Secondo Angel Gurria, il segretario dell'Ocse, il mancato raggiungimento di un accordo entro il 2020 aumenterebbe notevolmente il rischio che i paesi agiscano unilateralmente, con conseguenze negative su un'economia globale già fragile. Twitter ha sfruttato per scoppi pubblicitari gli indirizzi mail e i numeri telefonici forniti dagli utenti per motivi di sicurezza. Ad ammetterlo è lo stesso colosso dei social network, che in un breve post di scuse spiega che la diffusione dei dati è avvenuta inadvertitamente. La società ha affermato di non essere in grado di dire con certezza quante persone siano state colpite, ma, recita il post, nel tentativo di essere trasparenti abbiamo voluto metterne tutti a conoscenza. Nessun dato personale è mai stato condiviso esternamente con i nostri partner o altre aziende esterne. Il portiere della Juventus Gianluigi Buffon fa il punto della situazione in casa bianconera. Il mister è una persona che ha le idee molto chiare. Sono chiare perché ha un percorso d'allenatore che è trentennale quasi, per cui io credo che in trent'anni di calcio, di battute d'arresto, di delusioni, di grandi gioie, e io penso che uno che negli ultimi anni ha toccato, secondo me, la punta massima, la sua espressione massima, ecco, come allenatore, quindi approdando poi la Juve, secondo me, abbia un sacco di convinzioni che riesce a trasferire la squadra. E così, diciamo, sta avvenendo, anche perché c'è la predisposizione, secondo me, da parte del gruppo, di voler apprendere un qualcosa di diverso rispetto a questi dieci anni. Dal ritiro della Nazionale di Coverciano, in conferenza stampa ha parlato il difensore Francesco Cerbi. Da quando ho avuto, dopo la malattia, ho sempre fatto, sempre crescendo, delle ottime stagioni, buone stagioni e, sì, sto passando un buonissimo momento, non mi siedo mai, cerco sempre di migliorarmi, sempre cercare di restare umido, perché sono, ritengo una persona che ha voglia sempre di imparare, di andare sempre oltre, e questo facilita sempre comunque il compito di allenamenti, delle partite. Per la Roma sta diventando una vera e propria odissea, per i tifosi un incubo dal quale vorrebbero svegliarsi al più presto. Al centro delle cronache in Casa Roma c'è la questione stadio, che dopo oltre 2.800 giorni non sembra vedere ancora la luce. La situazione è in stallo. L'amministrazione Raggi insiste sulle opere pubbliche, che vorrebbe vedere pronte prima dell'impianto, ma il vero nodo resta il voto in aula per la convenzione urbanistica, non ancora in calendario. Se il voto darà esito contrario, il club di James Pallotta è pronto a fare causa al comune. Inoltre il patron giallorosso non ha ancora acquistato i terreni da Eurnova, così da lasciare aperto uno spiraglio con Fiumicino. Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, vuole Rino Gattuso e non ha alcuna intenzione di cedere. Il patron blu cerchiato aveva già tentato un approccio, il cui risultato era stato un netto rifiuto da parte dell'ex Milan. Ma dopo aver ufficializzato il divorzio con Di Francesco e aver visto sfumare l'ipotesi Pioli, Ferrero ha deciso di tornare all'attacco. Ha quindi incontrato Gattuso a Milano, proponendogli un contratto biennale con un ingaggio importante e carta bianca dal punto di vista tecnico. Offerta che sembra avere intrigato il mister, che da un secco rifiuto è passata ad un Mi intriga il progetto, ma ci voglio pensare. L'unico possibile concorrente per la panchina blu cerchiata sarebbe Gianni Di Biasi, per cui il club avrebbe già pronto l'accordo. Ma tutto dipenderà dalla decisione di Gattuso.